Ciao a tutti e buona giornata! Oggi vi presento uno dei brani più celebri della storia della musica. Si tratta del minuetto di Johann Sebastian Bach. L'ho messo in una tonalità molto semplice, in do maggiore, quindi non ci sono diesis, per intenderci i tasti neri del pianoforte, non ci sono solo tasti bianchi, e c'è sia mano destra che mano sinistra. Nell'eventualità fosse difficile mettere insieme le due parti, studiatevi il tema, la melodia. Ci tengo a dire una cosa, di questo brano trovate anche la versione per flauto qui lì sotto, ok? La versione per flauto ha più o meno tutte le note identiche, se non fosse che la versione per tastiera scende al di sotto del do basso. A un certo punto c'è il si, c'è il la, c'è il sol, e quindi un flauto non può andare lì sotto. Quindi se voi guardate la versione per flauto è adattata, ma la tonalità è la stessa, quindi potete suonare insieme. Se avete un amico che suona la tastiera e voi flauto, potrete farlo insieme e divertirvi nel modo migliore. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata, un grande abbraccio! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!